Ringraziamo Lucia che è stata così carina a raccontarci il suo percorso di fede che l'ha allontanata dalle sue pulsioni aggressivo-compulsive. Grazie, grazie. Ma adesso andiamo all'andamento dei dati demografici. Nel 2019 la fecondità più elevata si è manifestata nel nord del paese con 1,36 figli per donna, ben davanti a quella del mezzogiorno con 1,26. Il primato della zona più prolifica spetta alla provincia di Bolzano con 1,69 figli per donna, mentre invece al centro attenzione, attenzione è arrivata una notizia, è stato appiccato un incendio dalla piromane Lucia di cui parlavamo proprio poco fa, ma proprio nella sua chiesa. Alfredo vai! Sì, la signora Lucia sembrava aver superato la sua fase da piromane quando in realtà lei ha appiccato... Ma al centro? Ma può essere che al centro non ci si fila mai nessuno? Ma perché per pare che al centro non scopremo? Se fai il bar tutti fai gli sverbi. Ah, ieri sono stato con questa, la settimana prima sono stato con la sorella, Mario sempre a pagamento, Sesto ha detto che ha messo omaggio con la moglie, quell'altro ha fatto il salto della guaglia, io pure, su Tinder. Sai quando i match giochi? A me piace le milfo.